La squadra ha fatto quello che doveva fare in una partita dove la realtà dice che parate di Vannucchi non ce li ricordiamo. Abbiamo avuto il palleggio, abbiamo avuto 3-4 situazioni da gol, siamo arrivati anche al tiro molto bene e poi per bravura l'abbiamo sbloccata. Quando sembrava che il grosso era fatto e invece lì la squadra è stata leggerina, ha preso un gol da polli. Poi quando ieri vi dicevo che dobbiamo alzare il livello della rosa perché non possono essere gli stessi a tirare la carretta e avevamo bisogno di... C'è stato anche l'infortunio di Corradini che ci ha dovuto far mescolare un po' le carte. A 20 minuti della fine è entrata Loi, ha tirato il fiato un po' Cianci a 20 minuti della fine, Cicce mi ha chiesto il cambio. Non è facile, non è facile ma i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Poi come dici te, giustamente in quei 20 minuti abbiamo perso un po' di equilibrio ma abbiamo avuto una gestione della palla da polli. Una palla che sul lato destro deve andare in tribuna e invece abbiamo preso il cambio gioco, abbiamo preso gol con 6 dentro l'aria nostra ed è un peccato. Quindi stanotte si dormirà poco, ci le chiamo le ferite e il calcio è bello per questo perché va accantonato subito e martedì ci aspetta un'altra battaglia che è da preparare attentamente perché in questo momento qui bisogna trovare equilibri perché in alcune zone siamo corti. Il dato di fatto dice che dopo che siamo andati in vantaggio e dopo che ci sono state le sostituzioni i ritmi un po' sono calati e l'aspetto mentale non abbiamo avuto quell'energia necessaria anche per poter soffrire, metterci dietro l'aria della palla e non concedere niente. Però alla fine cosa abbiamo concesso? Abbiamo concesso un gol da polli, poi anche Rimini si metteva dietro, ripartiva. Noi abbiamo avuto poco equilibrio, quando vi dico che la gestione della palla diventa determinante e le palle, quelle del cazzo che sembrano approssimative dei 5-10 metri vanno gestite con la bava alla bocca perché il passaggio di 5 metri fatto di piatto come si deve, gestirlo, prendere un fallo, mettersi davanti col corpo quella è la rabbia di voler portare a casa il risultato, non essere approssimativi. Quando la palla deve andare in tribuna a 70 metri deve andare a 70 metri, questo è lo step che vi dico quando vi dico che ci vuole umiltà, non bisogna alzarsi da terra e sentirsi belli biondi con gli occhi azzurri perché è una cosa giocare a calcio, cercare di scardinare difesa avversaria oggi era difficilissimo ma la squadra è stata in controllo totale, ha creato 3-4 palle gol pulite il primo tempo il secondo tempo sono stati bravissimi da una costruzione dal portiere dove hanno attirato, sono andati diretti hanno accettato l'uno contro uno, siamo andati in porta e la squadra ha fatto quello che deve fare ma per arrivare in fondo in determinati campionati che sia A, B o C ci vuole un equilibrio emotivo non indifferente noi non dobbiamo farci trascinare da voi che giustamente dopo tre vittorie sognate e pensate che la Rosa sia la più forte di tutti, abbiamo due squadre, abbiamo di qua, abbiamo di là noi non abbiamo niente, noi dobbiamo pensare che non abbiamo niente, noi i campionati non si vincono con i nomi, bisogna correre più degli altri, pedalare più degli altri allora lì quando pareggi l'agonismo, quando pareggi quella cazzimma, quando pareggi quel veleno possono uscire fuori le qualità che la squadra ha, però dobbiamo alzare il livello di tutta la Rosa, dobbiamo cercare che i giovani crescano, dobbiamo alzare il livello dei più anzianotti è uno sport di gruppo, io credo nel gruppo, non credo nei nomi, a me dei nomi non mi frega letteralmente niente ve lo dico chiaro e tondo, noi dobbiamo alzare quel livello lì, credere realmente che possiamo essere una sorpresa che possiamo lottare fino in fondo, quello che ci porterà lontano, quindi cerchiamo le ferite, non si dormirà niente e penseremo alla partita di martedì, questa squadra ha dimostrato che ha le qualità, ha gli attributi per poter fare un tipo di campionato però poi arrivano momenti che gli eventi ci hanno messo di fronte a determinate situazioni bisogna trovare nuovi equilibri, non possiamo pensare che sempre gli stessi giochino 38 partite per da 90 minuti, non è la cosa concepibile, quindi sono fiducioso di tutti i ragazzi e ogni giorno ce la mettono tutta, ma io percepisco quando oggi è una partita che se hai quella convinzione totale, la porti a casa, la porti a casa, senza ma e senza se, questa è la verità, se no ci raccontiamo le barzellette e abbiamo ampi margini di miglioramento e bisogna migliorare, quindi quando si crede che siamo incanalati nella strada giusta ed è tutto in discesa, non è così, la strada è lunga e tortuosa, ma noi ne dobbiamo essere ben consapevoli che la strada è lunga e tortuosa, perché se ne sei consapevole allora lavori in un determinato modo nel quotidiano, lavori con umiltà, sei pronto a soffrire, perché il calcio è sofferenza, se tu non sei pronto a soffrire, se non sei pronto a battagliare, se non giochi col cuore, se non giochi con l'anima, capisci? Quindi siccome noi in campo mettiamo qualità, mettiamo cuore e anima, ma non basta, bisogna superarsi, questo è se vuoi fare un campionato di vertice, non vuoi fare un campionato anonimo, quello che hanno fatto questi ragazzi nelle prime dieci giornate non era una roba scontata, voi l'avete dato per scontato, io no, io non l'ho dato per scontato, sì, voi l'avete dato per scontato, io no, io sinceramente no, perché ve l'ho detto, cambiare 16 giocatori e creare un'anima non è semplice. Mi spesso che l'abbiamo riconosciuto. No, 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 non io, non a me, attenzione, non a me. No a lei, ma al gruppo stesso, quando si dice che hanno fatto quel risultato, cambiando la prima giornata, nove giocatori su undici erano nuovi, di cui due erano arrivati prima, significa anche riconoscere quello che hanno fatto i ragazzi e quello che ha fatto senza nascondersi anche lei. No, no, ma non è merito mio, è merito loro, credetemi, quando vi dico che è merito loro, è merito loro perché non è facile trovare un equilibrio, trovare una scintilla subita per incanalare dei 10-9 risultati utili consecutivi, ma devi essere consapevole di cosa ti ha portato ad ottenere quei 9 risultati utili consecutivi, perché noi siamo a un quarto del campionato, quanto è un quarto? È già passato, non conta più niente, non conta più niente, adesso la strada è lunga, ma lunga pesante, ma come sarà lunga per le altre? Perché arriverà il momento di down per le altre, noi stiamo tenendo botta e dobbiamo tenere botta fino a gennaio, perché abbiamo delle defezioni in determinate zone di campo, dobbiamo aspettare che determinati giocatori mettano un minutaggio, che crescano di condizione, allora possiamo diventare una squadra fastidiosa. In questo momento qui c'è da tenere botta e da tirar fuori gli artigli, perché i punti sono pesanti e dobbiamo cercare di non lasciarli per strada. Proviamo, poi il centrocampo a tre, devi adattare qualcuno a centrocampo, la squadra deve sopportare le due punte, sta rientrando Tito che non è ancora al 100%, il modulo cos'è? Come vuoi difendere? Allora pensi il modulo, difendiamo a quattro, stiamo impostando a tre, la squadra è stata super offensiva, al primo tempo eravamo tre più due mediane, al secondo tempo solo un play, eravamo con sei giocatori offensivi e la squadra ha avuto gestione della palla, li ha schiacciati, non è quello, non è questione di modulo, non è questione di… noi dobbiamo trovare solidità, una solidità che stiamo dimostrando, perché la squadra oggi a me, vi dico la verità, a me è piaciuta la squadra, fino al gol del vantaggio la squadra è in totale controllo della partita. Poi a volte puoi calare fisicamente, puoi non avere determinate energie in determinati momenti della partita ed è una roba fisiologica, ma è in quei momenti lì che la devi portare a casa, essere brutto, sporco e puzzare, la palla se deve andare a 70 metri va a 70 metri, se devi vincere il contrasto lo vinci, quello che dobbiamo mettere dentro noi, diventare un po' più sporchi in determinate situazioni, però aspettiamo i giovani, devono crescere e andiamo avanti, è un peccato perché è una partita che oggi era, secondo me, una volta che l'hai sbloccata era indirizzata la partita e in qualche modo la devi portare a casa.